E la signora? Vedo, è una passione. Da lungo tempo la vi sospettava, monsieur. Voi non potete nascondermi nulla? È una grandama? È una regina della commedia? Del varietà? O durante una spensierata escursione nel demimonde siete inaspettatamente scivolato sul sentimento? Ma, per prima cosa, in quale serie la classifichereste? È dama da gelsominati, da fruttacei, da penetranti, da orientali? Ditemi. È una delle commesse. Martin già mi titillava sotto l'orecchio col polpastrello bagnato. E intanto spingeva sotto la mia ascella il pungolo del suo seno. E Charlotte mi porgeva ad annusare un suo braccio profumato di gangia. Con quel sistema altre volte avevo percorso un campionario intero disposto sul suo corpo. E Sidonie soffiava sulla mia mano per far evaporare la goccia deglatina che mi aveva posto tra le sue labbra. Si affacciavano i piccoli denti di cui conoscevo bene i morsi. E un'altra, che non avevo mai visto, una ragazzetta nuova, che preoccupato com'ero solo sfiorai con un distratto pizzicotto, mi prendeva di mira stringendo la peretta del polverizzatore come invitandomi a una schermaglia amorosa. No, madame, non è questo in fede mia, riuscì a dire. Ciò che devo trovare non è il profumo adatto a una donna che conosco. È la donna quella che cerco, una donna di cui non conosco che il profumo. E in momenti come questi che il genio metodico di madame Odile dà il meglio di sé. Solo un rigoroso ordine mentale permette di regnare su un mondo dei fluvoli impalpabili. Procediamo per esclusione, disse, facendosi seria. Sa di cannella? Contiene zibetto? È violaccio? È mandorlato? Tenias sur Criadas avevano con sé le loro domestiche. Aveva risposto Salustiano e ci aveva spiegato come le figlie di famiglie nobili entrassero in convento portando con sé le proprie donne di servizio. Cosicché per soddisfare i veniali capricci della gola, i soli a essere loro concessi, le monache potevano contare su uno stuolo a lacre e infaticabile d'esecutrici. E quanto a loro non avevano che da ideare e predisporre e confrontare e correggere ricette che esprimessero le loro fantasie costrette tra quelle mura. fantasie anche di donne raffinate e accese e introverse e complicate. Donne con bisogni d'assoluto con letture che parlavano d'estasi e trasfigurazioni, martiri e supplizi. Donne con contrastanti richiami del sangue, genealogie in cui la discendenza dei conquistadores si mescolava con quella delle principesse indi e delle schiave, donne con ricordi infantili di frutti e aromi, di una vegetazione succulenta e densa di fermenti, benché cresciuta da quegli assolati altopiani. né si poteva dimenticare l'architettura sacra che faceva da sfondo alle vite di quelle religiose, mossa dalla stessa spinta verso l'estremo che portava all'esasperazione dei sapori, amplificata dalla vampa dei ciles più piccanti. Così come il barocco coloniale non poneva limite alla profusione degli ornamenti e allo sfarzo, per cui la presenza di Dio era identificata in un delirio minuziosamente calcolato di sensazioni eccessive e traboccanti, così il bruciore delle 42 varietà indigene di peperoncino, sapientemente scelti per ogni vivanda, apriva la prospettiva d'un'estasi fiammeggiante. Tre civiltà si sono succedute a Monte Alban spostando sempre le stesse pietre. Gli zapotecchi distruggendo e rifacendo le opere olmeche e i mixtechi le zapotecchi. I calendari delle antiche civiltà messicane scolpiti nei bassorilievi rispondono a una concezione del tempo ciclica e tragica. ogni 52 anni l'universo finiva, morivano gli dèi, i templi venivano distrutti, ogni cosa celeste e terrena cambiava nome. Forse i popoli che la storia distingue come occupanti successivi di questi territori non erano che un unico popoli, la cui continuità non si è mai spezzata, pur attraverso una storia di massacri quali i bassorilievi rappresentano. Ecco i villaggi conquistati con nome scritto in geroglifici e il dio del villaggio a testa in giù. Ecco i prigionieri di guerra in catene, le teste staccate delle vittime. Con un mal di testa lancinante esco dalla profumeria. Vorrei precipitarmi all'indirizzo di passi che ho strappato a Madame Odile, tra molte oscure allusioni e congetture. Ma grido al Corriere, presto al Bois Auguste e di buon trotto. E appena il Faton si muove, respiro profumatamente per liberarmi di tutti gli effluvi che mi si sono mescolati nel cranio. assaporo l'odore di cuoio dei sedili e dei finimenti, il puzzo dei cavallo, del suo sterco, della sua orina fumante. Risento i mille odori solenni o plebei che volano nell'aria di Parigi. E solo quando i sicomori del Bois de Boulogne mi immergono nella linfa del loro fogliame, e l'innaffiata dei giardinieri solleva dal trifoglio l'odore di terra, d'ordine a Augusto di voltare verso Passi. La porta del palazzo è chiusa a metà. C'è gente che entra, uomini in cilindro, donne velate. Già nell'atrio mi giunge un odore di fiori pesante, come di vegetazione imputridita. Entro tra le candele di cera ardenti, le corbe less di crisantemi, i cuscini di viole, le corone di asfodeli. Nella barra aperta imbottita di raso non posso riconoscere il viso ricoperto da un velo. E' avvolto in bende, come se nello scomporsi dei lineamenti la sua bellezza continuasse a rifiutare la morte. Ma riconosco il fondo, l'eco del profumo che non semiglia a nessun altro, ormai fuso con l'odore di morte, come se fossero stati inseparabili da sempre. Grazie. Grazie a tutti.